Sono davvero tante le persone che nel mese di agosto restano nella città, non potendosi permettere alcuna vacanza e cercando di vivere il periodo con una certa serenità. A loro hanno pensato all'Associazione di Quartiere Campobasso Nord, quanto hanno proposto alcune serate musicali e le iniziative di aggregazione che possono coinvolgere le persone appunto rimaste a Campobasso. Uno degli eventi è quello serale in largo Gramsci del musicista e cantautore Goran Kuzminak, che ebbe un gran successo di ascolti negli anni d'oro della musica leggera italiana, quella a cavallo tra gli anni 70 ed 80. Quest'anno è un anno particolare anche perché abbiamo voluto creare più eventi, non solo il 29, quindi finire con la classica festa di fine campus, ma abbiamo voluto riprogrammare anche altre attività importanti, tra cui quella di stasera, che è un evento secondo me per Campobasso molto importante, anche perché Goran Kuzminak venne nell'81, fece un bellissimo concerto a Campobasso e stasera ritorna, tra l'altro ritorna nel nostro quartiere, quindi secondo me è un vanto sicuramente per tutta la città. Impegno, disimpegno, un po' di fresco ci sta bene, ci sta a rotolare, nel fango della strada, a stare in equilibrio sulla lama di una spada. Abbiamo voluto portarli fino agli inizi di settembre perché molte persone, molti di noi rimangono a Campobasso, per cui è giusto anche rivitalizzare alcune zone e far conoscere alcuni angoli della nostra città, che ne sono tanti e se ne sono belli. Tra l'altro è un progetto a 360 gradi anche con l'amministrazione comunale, perché ha inteso anche affidarci non ultimo la manutenzione di aree verdi del nostro quartiere, per cui è anche l'occasione per vivere questi angoli della città con eventi, tra cui anche quello fino al 2 settembre, quindi ci sarà una estate allungata. Grazie. 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 Grazie.